Ben tornato Goodyear, ben tornata! Continuiamo a parlare di reti gablate e wireless. Andiamo ora a visionare le connessioni. Quali connessioni si possono utilizzare in una rete? Perché attualmente i tipi di connessioni che normalmente vengono utilizzati sono connessioni cablate o connessioni wireless, senza fili. La prima naturalmente è realizzata tramite un cavo che collega i vari dispositivi, mentre la seconda sfrutta le varie tecnologie senza fili, quindi onde elettromagnetiche che si sparpagliano nell'ambiente circostante agli apparecchi. Tra i due tipi di connessioni, quella cablata fornisce una maggior stabilità, miglior qualità del segnale trasmesso e soprattutto una maggior sicurezza nella trasmissione delle informazioni, cosa che è assolutamente irraggiungibile dalla tecnologia senza fili. Il guaio è che questa tecnologia senza fili la stanno ormai piazzando pian piano dappertutto e noi ci facciamo prendere la mano e non facciamo nulla per ostacolarla, anzi tutt'altro l'alimentiamo acquistando i vari smartphone, tablet, network e quant'altro di dispositivo portatile e non permette di trasmettere o ricevere informazioni senza fili. Tra l'altro stiamo anche raggiungendo l'apice in questo preciso istante grazie al fatto che pochi mesi fa ha debuttato anche in Italia la tecnologia 4G. Per fare una battuta vuoi navigare mentre stai sciando? Benissimo, stipula un contratto di traffico dati con un provider con tecnologia 4G e potrai fare lo slalom tra onde elettromagnetiche che ti investiranno durante le tue scivolate dalle varie antenne che saranno posizionate un po' dovunque. Va bene, ma torniamo alle nostre reti informatiche. Nella trasmissione di dati, grazie a reti cablate, io comunque inserirei anche una tecnologia che sfrutta le onde convogliate. Cosa sono? In pratica la trasmissione di dati avviene attraverso dei convogliatori, delle piccole scatole all'interno dei circuiti elettronici che sono connessi al router e ad altri PC tramite dei cavi Ethernet che saranno collegate, queste scatolette, alle prese elettriche, quindi al muro. Queste scatolette metteranno in collegamento i vari dispositivi anche distanti molto tra di loro, diciamo comunque all'interno di una stessa struttura, di una casa o un ufficio, laddove anche non erano previste ad esempio postazioni Internet. Quindi la trasmissione di dati Internet verrà convogliata appunto grazie a questi convogliatori lungo la linea elettrica e sarà prelevabile all'interno di questa struttura tramite altre scatoline, altri convogliatori. Tecnologia ad ogni convogliata a parte, una volta che avrai scelto il tipo di connessioni, cablata o wireless, dovrai realizzare la tua rete. La più semplice rete è realizzabile collegando i vari dispositivi tramite un modem router in base al numero di opportunità fornite dal modem router grazie alla presenza di porte Ethernet, qui rappresentate in figura. Ti sarà sufficiente collegare i vari dispositivi, router compreso, a queste porte Ethernet. Collega quindi ogni dispositivo al modem router tramite il cavetto Ethernet e sarai pronto, sarai pronta a navigare su Internet da ogni dispositivo. La banda che avrai acquistato dal tuo provider sarà ovviamente però suddivisa tra i vari dispositivi connessi al modem router. Ma se il numero di dispositivi da collegare è superiore alle interfacce fornite dal modem router, potrai semplicemente acquistare un dispositivo chiamato hub che replicherà nVolter per tutti i tuoi dispositivi da collegare, la tua rete e quindi la trasmissione di dati. Questo hub naturalmente lo acquisterà in base alle tue necessità. Ricorda solo che un maggior numero di dispositivi comporta una diminuzione della banda in quanto sarà suddivisa, quindi non esagerare se non sei raggiunto da una velocità relativamente alta in termini di megabit per quel che riguarda il download, in quanto la navigazione in questo caso rallenterà inevitabilmente. A rete realizzata puoi valutare anche un'altra opportunità. Oltre a poter condividere solo l'accesso ad Internet, come in questo caso, potrai anche realizzare la condivisione di cartelle o dispositivi hardware tra i vari computer. Come viene attivata una rete? Realizzare una rete con condivisioni di software e hardware implementa notevolmente la versatilità della rete stessa, in quanto potrai esplorare e scambiare file e cartelle tra i vari dischi rigidi dei computer collegati. Quindi, inoltre, potrai utilizzare l'hardware collegato all'interno della stessa e messo in condivisione. Per concretizzare ciò dovrai configurare la rete, eseguendo una procedura guidata. Durante la procedura potrai selezionare cosa condividere, se solo componenti hardware o anche software. All'interno di ogni computer potrai ulteriormente decidere se e cosa condividere e, inoltre, fornire le autorizzazioni necessarie su ciò che condividerai. Supponi di dover condividere una cartella che contenga documenti. Puoi decidere se l'accesso alla rete dovrà essere in sola lettura oppure autorizzare anche la scrittura. In pratica, lascerai che tutti gli utenti potranno modificare i file contenuti all'interno di questa cartella, fino anche ad aggiungere o rimuovere questi stessi dati. Attenzione allora, se opti per questa ultima soluzione, ad eventuali problematiche a cui potrai andare incontro, proprio se dovrai dare massima libertà agli utenti della rete. Naturalmente, per non correre i rischi dovrai effettuare delle operazioni che tu già ben conosci, suppongo, ossia il backup dei dati. Allora, agisci in modo tale da automatizzare anche il processo di backup, così ridurrai i rischi di perdita di dati condivisi all'interno della rete. La cosa necessaria da evidenziare è che le impostazioni di configurazione all'interno della rete variano se utilizzi, tra i vari dispositivi, sistemi operativi Windows diversi. Ti ricordo che ogni computer è etichettato con un proprio nome che avrai deciso e impostato durante l'installazione del sistema operativo, ma comunque potrai sempre cambiarlo. Di impostazioni di fabbrica, poi, ogni computer è inserito in un gruppo di lavoro, che avrà una denominazione diversa a seconda del sistema operativo Windows utilizzato. Allora, per vedere ciò che ti sto descrivendo, apri Explorer Resources e clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona Computer, sul pulsante Computer, selezionando dal menu che si presenta il pulsante Proprietà. Nella nuova finestra, regati nella zona centrale sul lato destro, troverai il pulsante Cambia impostazioni. All'interno di questa nuova schermata, andrai a selezionare la scheda Computer, se non selezionata, cliccando sul pulsante Cambia, si presenterà questa nuova schermata, all'interno della quale potrai visionare il nome attuale del computer ed eventualmente cambiarlo, e soprattutto il nome che è stato impostato in fase di installazione al gruppo di lavoro al quale appartiene questo computer. La cosa essenziale non è tanto dar un nome casuale al tuo computer, che potrai scegliere in piena libertà, ma è determinante, ai fini di una condivisione all'interno di una rete, fornire lo stesso nome proprio appunto al gruppo di lavoro, e dovrai impostare questo nome identico per tutti i computer della rete. Altrimenti, sottolineo, ne verrà meno la possibilità di condividere i file e le risorse all'interno di questa rete. Brevemente, vediamo come individuare ed eventualmente cambiare il nome del computer o il gruppo di lavoro. Siamo all'interno di esplorare le risorse, clicca con il pulsante destro sull'icona Computer e individua il pulsante Proprietà. In questa nuova schermata, clicca sul pulsante qui a destra su Cambia impostazioni. Nella nuova schermata, se non è già selezionato, seleziona la scheda Nome computer e successivamente il pulsante Cambia. All'interno di questa scheda potrai visionare e scegliere eventualmente un nome diverso e soprattutto impostare il nome del gruppo di lavoro che, ricordo, dovrà essere identico tra tutti i computer che appartengono ad una rete. Qualora fosse diverso, quel computer non avrà possibilità di accedere al gruppo di lavoro e quindi condividere le informazioni. Ti do appuntamento alla prossima lezione per continuare ulteriormente l'acquisizione delle informazioni sulle rete informatiche. Ora un forte saluto, ciao a presto, da Carlo e dalla prossima! Grazie a tutti!